Eleonora, sto cercando casa su internet. Io navigo, ma non so come orientarmi. Mi viene il mal di mare. Ma perché devi approdare nel sito giusto quello di Tecnocasa? www.tecnocasa.it dove puoi leggere gli annunci delle oltre 2500 agenzie Tecnocasa d'Italia. Sempre nel sito si può iscrivere al servizio di newsletter immobiliare. In che cosa consiste? Sei aggiornata in tempo reale dal sistema sulle nuove proposte disponibili. Puoi inoltre scoprire il nuovo servizio post vendita Casa Insieme. Un'iniziativa riservata a chi compra o vende con Tecnocasa creata in collaborazione con aziende prestigiose legate alla casa. Oltre ad usufruire di numerosi vantaggi si ha anche la possibilità di partecipare all'estrazione di 9 premi monete d'oro del valore di 1000 euro ciascuno. Insomma Valentina Tecnocasa non ti aiuta solo nel vendere o comprare casa ma anche dopo per navigare in acque tranquille. La tranquillità di fare centro. Masihara di valore di valore di valore. Allora! si